Signori, 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 chissà questo Lecce dove vorrà arrivare. La verità è una, che almeno per questa notte il Lecce la passerà seconda in classifica. Battuto il Genoa 1-0 in una partita che in 11 contro 10 e in 11 contro 11 non ha mai avuto storia, Lecce dominante, un Lecce che ha avuto una marea di occasioni infinite, ancora di più dopo l'espulsione di Marin del Genoa per un'ingenuità del terzio sinistro spagnolo, Lecce che è sorprendente, non ho parole, non me lo sarei mai aspettato, ma queste belle storie sono belle perché vanno raccontate, vanno raccontate e ci fanno sempre di più innamorare del calcio, soprattutto di quelle società che fanno del lavoro, dello scouting, della ricerca di giocatori, le fondamenta del proprio lavoro. Uden batte Genoa 1-0, Lecce secondo in classifica. Ci vediamo domani con il sabato di Serie A ragazzi. Buonanotte.